Grazie al torneo della solidarietà che si era tenuto lo scorso anno tra le province abruzzesi, oggi siamo riusciti a consegnare ai comuni di Albatriatica, Rosetto e Giulianova, che le comuni che avevano fatto richiesta, le carrozzine Job. Sì, grazie a questo torneo oggi distribuiamo le tre carrozzine, come ha detto lei, distribuite Albatriatica, Rosetto e Giulianova. Sono delle carrozzine che permettono ai disabili di entrare sia in acqua e sia in spiaggia, ma non solo ai disabili, anche chi ha difficoltà motorie, sono delle carrozzine speciali che hanno delle gomme galleggianti in cui permette sia in acqua nel mare e sia in piscina di poter usufruire tutte le persone che hanno difficoltà motorie. Con questa iniziativa la provincia è sempre più attiva per quanto riguarda le politiche sociali. Certo, io devo ringraziare il nostro consigliere Luca Corona che ha organizzato questo torneo dove soprattutto la nostra provincia e i nostri consiglieri hanno devoluto parte delle somme per l'acquisto di queste tre carrozzine Job. Ovvio anche il mio assessorato al sociale ha contribuito all'acquisto e quindi abbiamo esaudito le richieste del consigliere di Giulio del Comune di Roseto, le richieste dell'Irifor e dell'Aism per il Comune di Giulianova e le richieste della Rosa Blu per il Comune di Alba. Quindi verranno donate ai comuni queste tre carrozzine e i comuni le destineranno agli chalet che hanno i disabili. Voi avevate fatto richiesta, la provincia ha mantenuto la promessa, adesso la carrozzina verrà portata all'Idofan, a Giulianova. Sì, verrà andata a questo chalet di Giulianova dove avevamo fatto richiesta appunto per questo, per il bisogno che c'era visto che ci sono diversi disabili e ringraziamo la provincia per la sensibilità che sempre dimostra verso l'ambito sociale. Vogliamo ringraziare, come Roseto, vogliamo ringraziare l'assessore Rasicci perché ha mantenuto la sua promessa, aveva promesso una carrozzina a Roseto e noi ne avevamo tanto necessità per i disabili appunto della nostra città e lo ringraziamo pubblicamente.